Benvenuti sul canale Le News Che Ho Tu. Oggi parliamo di Maria De Filippi che si è arrabbiata e sbotta scrivendo una lettera indirizzata a Roberto D'Agostino, che è un giornalista che accusa la trasmissione Uomini e Donne di essere studiata a tavolino. Secondo lui c'è tutto un copione che i protagonisti di Uomini e Donne devono seguire alla lettera. Maria De Filippi quindi scrive una lettera in cui ribadisce la serietà del programma. È tutto spontaneo, tutto quello che avviene. Infatti se ci sono stati casi in cui qualcuno fingeva o cercava di imbrogliare il programma, Maria De Filippi lo ha subito cacciato via per rendere il tutto più pulito possibile. Nella lettera inoltre Maria dice che chiunque continuerà a dire il falso sulla sua trasmissione che è pilotata, tutto organizzato, sarà denunciato proprio da lei. Secondo voi ha ragione Maria De Filippi oppure sta solo cercando coprire qualcosa che potrebbe uscire fuori e far abbassare gli ascolti del programma? Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e noi ci vediamo con le prossime news.